Il villaggio ragazzi del meeting ha mille facce. Io mi occupo di far scoprire la bellezza della matematica ai bambini, ai ragazzi e anche ai loro genitori. Giochiamo, ritagliamo, manipoliamo, sperimentiamo, sbagliamo, risolviamo problemi e scopriamo la matematica non più come un ostacolo di cui aver paura ma come un'opportunità per imparare a ragionare e osservare anche divertendosi. Donate al villaggio ragazzi per sostenere un luogo dove i bambini crescono insieme ad adulti disponibili a crescere con loro attraverso la bellezza dell'arte, della musica, della storia, della letteratura, della scienza e persino della matematica.